Musica Restano stabili le condizioni di Anna Petruzzelli, la 53enne rimasta gravemente ferita la mattina di domenica 11 agosto nell'esplosione avvenuta all'interno di un trullo a Cisternino in provincia di Brindisi. La donna è sempre ricoverata nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale Perrino con ferite su oltre il 50% del corpo. Appena possibile la paziente sarà sottoposta ad un intervento chirurgico. Nel crollo della struttura ha perso la vita suo marito l'ingegnere edile barese Nicola Salatino di 55 anni, rimasto schiacciato dalle macerie ed estratto dai soccorritori dopo oltre quattro ore di scavi. I coniugi erano arrivati a Cisternino il giorno prima della tragedia per trascorrere una vacanza, ospiti di una coppia di amici di Barletta rimasta illesa. L'esplosione è avvenuta poco dopo le 8 del mattino nella zona del trullo che ospitava la cucina. A provocarla con tutta probabilità lo scoppio di una bombola di gas, questa l'ipotesi più accreditata secondo i carabinieri che stanno conducendo le indagini sull'accaduto coordinati dalla procura di Brindisi. Dopo aver estratto il corpo della vittima dalle macerie, i vigili del fuoco, caudiovati dai volontari della protezione civile, hanno messo in sicurezza l'area mentre sono stati apposti i sigilli su ordine della magistratura, su quel che resta della struttura crollata. Non è escluso che il pubblico ministero possa disporre una consulenza tecnica in grado di ricostruire con precisione l'accaduto e fare luce sulle cause della tragedia. Il corpo dell'ingegnere è ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Una volta terminati gli accertamenti autoptici e gli altri esami disposti dalla procura, la salma sarà restituita ai familiari che a Bari attendono di poter celebrare i funerali.